Salmo 28 A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo la loro opera e la malvagità delle loro azioni. Secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Poiché non hanno compreso l'agire del Signore e le opere delle sue mani, egli li abbatta e non li rialzi. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia. Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie. Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato. Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.